Come molti di voi sapranno ragazzi io mi alleno spesso all'ora di pranzo sia d'estate che d'inverno quindi d'inverno è piacevole perché è l'orario più caldo della giornata d'estate è sempre l'orario più caldo della giornata ma è molto ma molto meno piacevole specialmente in questa estate caldissima in cui è da fine maggio praticamente che a pranzo ci sono spesso temperature vicino ai 40 gradi e quindi andando appunto spesso in bici a quell'ora mi sono reso conto anche con gli anni che le prestazioni calano e calano anche di molto allenandosi con quelle temperature rispetto invece a quando si esce magari la mattina molto presto o a primavera o autunno che la temperatura si aggira sui 20 gradi quindi il corpo riesce ad esprimersi molto meglio quindi oggi ho voluto fare due o tre esempi per farvi appunto rendere conto in termini però scientifici cioè proprio coi numeri guardando i dati quanto in effetti si può perdere di potenza a parità di sforzo espresso quindi diciamo a parità di frequenza cardiaca ovviamente allenarsi col caldo non è che comporta solo un aumento della frequenza cardiaca ma c'è proprio meno voglia meno capacità appunto di esprimere potenza però diciamo due valori da prendere in considerazione quindi facilmente valutabili sono frequenza cardiaca e potenza quindi partiamo dai primi due tratti di strada che appunto voglio confrontare ovviamente sono stati fatti in periodi molto vicini quindi avevo praticamente la stessa condizione in entrambe le prove e possiamo vedere appunto la prima salita di circa 4 km 11 minuti e poco più l'ho percorsa ad una potenza media di 303 Watt e con una frequenza cardiaca media di 168 sono arrivato addirittura a 180 perché mi ricordo è stata una salita in cui alla fine ho accelerato quindi è stata fatta in progressione l'ho paragonata invece con quest'altra salita più corta meno dislivello infatti ha durato anche meno 7.035 però possiamo vedere che con una frequenza cardiaca molto simile infatti ci sono solo 6 battiti di differenza qui ho ottenuto una media di 162 la potenza è stata molto molto più bassa infatti qui siamo a 253 mentre quell'altra a 303 quindi appena 6 battiti di frequenza cardiaca ma ci sono ben 50 Watt in meno sulla salita di 7.030 che tra l'altro era anche più corta poi voglio confrontare invece quest'altri due dati qui vediamo due salite identiche sono le stesse fatte in due giorni diversi qui la prima fatta a mattina presto quindi c'erano poco più di 20 gradi potenza media 302 Watt frequenza cardiaca media 165 salita di 4.025 quindi abbastanza breve fatta invece all'ora di pranzo qui mi ricordo era una giornata da 40 gradi e oltre troviamo una frequenza cardiaca di 167 quindi due battiti in più della volta fatta in mattina potenza media 259 quindi ci sono ben 44 Watt in meno sullo stesso tratto di salita fatta praticamente alla stessa frequenza cardiaca media per ultimo voglio prendere quest'altro segmento diciamo così qui 19 minuti e 50 potenza media 280 frequenza cardiaca 161 qui fatta di mattina presto poi ero anche in quota saremmo stati massimo 25 gradi quest'altro tratto 164 Watt di media di 237 quindi qui vediamo che addirittura nel tratto fatto all'ora di pranzo ci sono 3 Watt di media in più ma ci sono anche 43 Watt in meno quindi ho fatto uno sforzo maggiore per produrre 43 Watt in meno quindi ragazzi tiriamo un attimo le somme posso sicuramente assicurarvi che uscire con 40 gradi rispetto ad uscire con 20 la differenza è abissale ci sono tra i 40 e i 50 Watt in meno a parità di sforzo espresso quindi diciamo a parità di frequenza cardiaca tralasciando tutti gli altri aspetti negativi di uscire col caldo ovvero eccessiva sudorazione disidratazione poca voglia stanchezza spostatezza e chi più ne ha più ne metta quindi ragazzi questo era per rassicurare tutti quelli che l'estate sono costretti ad uscire in orari caldi che si sentono più fiacchi hanno paura di aver sbagliato qualcosa in allenamento sentono la loro condizione calare la loro prestazione diminuire ragazzi è tutto normalissimo basta fare una prova per convincersi che è così quindi un giorno uscite alle 6 di mattina come faccio io una o due volte a settimana e vedrete che a parità di sforzo vi sembrerà di volare perché la potenza salirà di molto avrete sensazioni molto ma molto più positive e quindi in quel modo capite veramente qual è la vostra reale condizione del momento e non vi fate prendere dal panico dell'uscita all'ora di pranzo con il caldo in cui non andate neanche a zampate per oggi ragazzi è tutto fatemi sapere se questo video vi è stato utile fatemi sapere anche qual è la vostra opinione quali sono le vostre sensazioni scrivendo ovviamente qua sotto nei commenti io come al solito vi ringrazio per l'attenzione invito a mettere un bel like ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video ciao ciao